Con la riapertura in quasi tutta Italia restano dubbi per quanto riguarda il settore eventi. Le maggiori libertà concesse al governo Draghi possono consentire matrimoni, comunioni e altre funzioni. Il decreto infatti prevede le regole e i protocolli da osservare per le attività che ritorneranno ad aprire. Nel documento non si parla nello specifico dei matrimoni ed eventi. Pare quindi che tali attività non siano sospese. Le regioni inoltre hanno approvato una serie di linee guida per convegni e grandi eventi come appunto i matrimoni. Le nuove regole comprendono una serie di misure già utilizzate lo scorso anno. Predisporre un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare durante l'evento. Mantenere l'elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni. Riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso alla sede dell'evento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti. Se possibile, organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita. Disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso e di almeno un metro di separazione negli ambienti all'aperto, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Quest'ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione. Laddove è possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni, sempre nel rispetto al distanziamento di almeno un metro. Assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti interni e delle eventuali attrezzature prima di ogni utilizzo. Gli ospiti dovranno tutti indossare la mascherina negli ambienti interni quando non sono seduti al tavolo e negli ambienti esterni, qualora non sia possibile rispettare la distanza di almeno un metro. Il personale di servizio invece a contatto con gli ospiti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani. È possibile organizzare una modalità buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato escludendo la possibilità per gli ospiti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso per ospite personale l'obbligo del mantenimento e la distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitano la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali. Dovranno essere altresì valutate idonee misure come segnaletica a terra e barriere per garantire il distanziamento interpersonale. Per eventuali esibizioni musicali da parte dei professionisti devono essere evitate attività e occasioni di aggregazione che non consentano il mantenimento della distanza interpersonale quindi sono ancora vietati i balli. È obbligatorio mantenere aperte a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. Nei guardaroba, indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti portabili. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS